Musica Quest'oggi che è la nostra trasmissione siamo a Cortina e siamo nella sede della Faloria SPA che festeggia un compleanno. Di che cosa si tratta? Sì, un compleanno veramente importante perché sono addirittura 80 anni dalla prima inaugurazione della funivia. Quindi partiamo dal 5 febbraio del 1939, 80 anni fa, e quindi è un compleanno importantissimo anche perché comunque risulta essere il primo impianto all'interno del Dolomiti Supeschi. Perché a parte la funivia di Pocol che venne inaugurata nel 1924, che però purtroppo ora è dismessa, quella che partiva proprio dal centro di Cortina, andava verso Pocol, diciamo che quella del Faloria è arrivata a seconda, ma attualmente è l'impianto di risalita più vecchio esistente in tutto il Dolomiti Supeschi. Quindi si parla di 450 impianti. E all'inaugurazione ci furono dei nomi importanti? Sì, le foto dell'epoca riportano il ministro Benni, Eddaciano Mussolini, per cui la funivia si chiamava all'epoca Funivia Alfaloria, principe di Piemonte, e il rifugio era intitolato appunto a Eddaciano Mussolini. Anche realizzato in modo autarchico, come il regime fascista voleva? Come usava? Quando si decideva si doveva fare e farlo anche in fretta, un po' il contrario di quello che succede adesso. Non c'erano molti referendum, a parte che poi ovviamente per Cortina questo impianto ha dato lustro perché poi tutta la possibilità di usufruire a monte, a parte del rifugio ovviamente, ma tutta la parte sciabile del Faloria che si è sempre prestato in maniera naturale allo sci, è stata una cosa direi eccezionale. Io penso potrei partire da qui, dal centro di Cortina, dove bisogna anche dire arrivava il treno, quindi noi siamo attaccati alla ex ferrovia delle Dolomiti, quindi bastava scendere in stazione, far 200 metri a piedi e risalire e portarsi a 2100 metri. Quindi anche gli impianti venivano fatti, in un certo senso con una logica urbanistica, arrivo in treno, prendo gli sci, mi porto alla funivia e poi riscendo e torno a casa. Quindi voglio dire anche dal punto di vista così degli spostamenti, la sede proprio, la partenza del Faloria era proprio un punto ideale per poter servire sia il cliente che veniva in giornata, sia il cliente residente che veniva dal centro. Ci troviamo anche qui a pochi metri dal campanile, quindi una cosa che oggi giorno non si usa più. E poi voi avete realizzato il primo comprensorio, ossia realizzare un primo comprensorio sciistico. Sì, beh, lì per il comprensorio sciistico bisogna arrivare praticamente alle Olimpiadi del 1956, dove è stata realizzata tutta la parte del cristallo, da Riogere verso il Monte Cristallo con l'arrivo della Staunies a 3000 metri, una pista che fungeva di riserva alle Olimpiadi in caso di mancanza di neve e quindi praticamente dal Faloria si poteva arrivare al cristallo e anche il contrario, avendo una situazione di impianti connessi e quindi modernissimo per l'epoca. Le caratteristiche tecniche delle piste quali sono? Beh, diciamo, se parliamo della Staunies, quella che arrivava in cima al cristallo, è una pista che ha una pendenza addirittura del 67%, quindi è una pista ripidissima, era la più ripida di tutto il Dolomiti e quindi è una pista nera, diciamo, veramente impegnativa. Poi in Faloria noi abbiamo cinque piste nere al momento, la Franchetti, la nuova Scoiattolo, di cui magari parleremo dopo, abbiamo lo Slittone, abbiamo la Stratondi, la Bigontina, quindi delle piste impegnative che comunque lasciano il segno ancora oggi. Visto che abbiamo citato la Scoiattoli, da quando parte questo progetto? Beh, questo progetto è partito nel 2011, ha avuto diverse traversie, come ormai si usa, siamo abituati, diciamo, a soffrire in fase di progettazione, poi siamo riusciti in realtà a realizzarla per l'anno scorso. Le condizioni meteo non ci hanno permesso di aprirla perché l'anno scorso le precipitazioni sono state quelle che sono. Abbiamo implementato quest'anno con l'impianto di nevamento e quindi da quest'anno, da subito, è percorribile. E quindi la pista, la quinta pista nera del compressore del Faloria, impegnativa, bella, io penso, è già piaciuta molto e di conseguenza domani andiamo ad inaugurarla insieme all'evento degli 80 anni della Funivia. Beh, la Funivia del Faloria è nata anche per l'arrivo perché c'è questo bellissimo rifugio che è un panorama su tutta la vallata. Sì, sì, è la terrazza sopra Cortina, raggiungibile in 11 minuti dal centro, quindi è comodissimo, sia ovviamente per sciatori ma anche per pedoni. Infatti anche nella stagione estiva è una stagione abbastanza importante perché abbiamo implementato anche con il sentiero d'olomie altri percorsi trekking che abbiamo realizzato questi ultimi anni e quindi anche d'estate ha un suo perché, come si suol dire. Anche le zone a tutto attorno sono poi facilmente raggiungibili, facilmente fra virgolette. Sì, facilmente raggiungibili, abbiamo un percorso che non direi alternativo, un percorso bellissimo che porta al lago del Sorapis che in genere viene intrapreso partendo da tre croci perché diciamo un attimino più corto, però il percorso che va dal Faloria ai Tondi verso Forcella del Laudo e il lago del Sorapis è sicuramente più bello di quello che viene intrapreso in questi ultimi anni, dato anche il successo della meta. Visto che abbiamo accennato agli impianti del cristallo, c'è una novità per il futuro importante perché si sa che l'Ovovia è stata interrotta, è stata dismessa, però non ha abbandonato questo progetto. No, a breve andremo in conferenza di servizi in regione, in provincia scusate, dove abbiamo un progetto di funi for, c'è una funivia particolare con delle funi molto larghe che dovrebbero resistere anche al vento laterale perché quel canalino aveva dei problemi a livello trasportistico di questo tipo, di conseguenza noi contiamo di realizzare nuovamente un impianto che porta ai 3.000 metri del rifugio Lorenzi che secondo noi è fondamentale per Cortina. Diciamo che riusciamo a liberare il canalino della Staunies di una quindicina di sostegni che ora sono quelli dell'ex Giovia o Vovia. Quindi con un solo traliccio a un terzo della linea riusciamo a superare tutto il dislivello per arrivare su con una vettura da 80 persone, quindi al coperto, al caldo, senza problemi climatici e speriamo che venga accettato dalla commissione, anche perché per Cortina, come aveva scritto anche Buzzatti quando ci fu il primo impianto nel 1996, Cortina si eleva e arriva a 3.000 metri in un pezzo bellissimo che ha riportato in uno dei suoi libri. Gli impianti del Monte Cristallo vanno sicuramente bene per quanto riguarda l'inverno, ma è in estate soprattutto che sono appetiti perché c'è tutto il lungo tragitto della cresta del cristallo. Sì effettivamente il cristallo negli anni diciamo gloriosi è stato implementato dalla ferrata Ivano di Bona che è una ferrata che percorre tutti gli ex sentieri di guerra, arriva fino a Ospitano, una ferrata stupenda, tutta in cresta, in quota, poi è stata realizzata più tardi all'inizio degli anni 70 la ferrata Marino Bianchi che arriva in vetta, un percorso alpinistico praticamente molto interessante, poi c'è anche il sentiero René Depol che porta fino a Carbonin, quindi c'è un trittico che parte proprio dal rifugio Lorenzi e porta diciamo in tre direzioni differenti. Senta, voi come società tutti gli anni lanciate una sfida che puntualmente vincete perché siete i primi ad aprire e gli ultimi a chiudere, è una questione di fortuna. Beh, dopo vent'anni direi di no, ormai è una questione di esperienza perché partiamo molto presto, ci organizziamo bene, poi naturalmente il meteo fa la sua parte, abbiamo sofferto anche noi anche anni addietro per aprire diciamo in maniera repertina, abbiamo aperto comunque in qualche caso anche il 15 novembre, quindi è un appuntamento importantissimo per arrivare poi a Sant'Ambrogio completamente pronti. Mentre siccome poi con l'impianto di nevamento, come dico io, il Faloria si sta trasformando in un ghiacciaio, arriviamo al primo maggio che con l'ultima gara, l'ultima festa che è aperta a tutti ovviamente, dove lì chiudiamo con più neve che sciatori perché è anche un po' difficile tener botta fino al primo maggio perché ormai si aprono i sentieri in valle, si va in mountain bike, si va in canoa e quindi abbiamo comunque uno zoccolo duro di appassionati. Ultimamente abbiamo anche reperito quelli del Telemark, di un club addirittura di Belluno che vengono ogni anno simpaticamente e fanno anche loro la loro gara con lo stile del tallone libero. I numeri della vostra società, prima i numeri proprio della società, in quanti siete a lavorare? Ma a lavorare… Ma anche sono molti stagionali, immagino. Sì, sono molti stagionali, ma abbiamo una ventina di persone in rifugio e una cinquantina di addetti sugli impianti. Purtroppo, devo dirla, abbiamo chiuso la zona di Mietres perché non riuscivamo più a sopportare il peso e l'onere, diciamo, una zona che non ha avuto anche successo, ma anni addietro sono stati anche 90. Quindi è un impegno piuttosto gravoso e comunque porta anche lavoro nelle valli. Tra l'altro noi, oltre a addetti di Cortina, abbiamo moltissimi delle zone limitrofe, dal Cadore, soprattutto da Auronzo e anche dal Comelico. Quindi, diciamo, abbiamo aperto il mercato ad ogni possibilità. Abbiamo molti addetti anche ricorrenti, quindi hanno tutta la nostra fiducia perché sono anni che continuano a venire da noi, praticando poi altre esperienze estive, magari con lavori nel bosco o altre cose. E voi siete collegati anche alle scuole di sci di Cortina? Sì, ovviamente. Beh, Cortina è la località del Dolomiti Supeschi che ha più maestri iscritti, sono circa 600, tra cui divisi in 7-8 scuole di sci, tra San Vito, Cortina, Auronzo e Misurina, e un 200 circa liberi professionisti. Per quanto riguarda invece i passaggi, quant'è il carico durante la stagione invernale? Prendiamo intanto la stagione invernale. È più robusto rispetto a quella estiva? Sì, sì, il rapporto è praticamente l'80% dei passaggi è invernale, 20% è estivo. Dipende un po' dalle località, può essere tra il 90%, il 10% o l'80%. Quindi in estate voi fate un servizio alla conca? Sì, però bisogna dire che i passaggi limitati estivi evidentemente sono anche dati dal fatto che non tutti gli impianti sono aperti, perché abbiamo aperto solamente certe seggiovie che portano ai rifugi o certe funivie, che comunque Cortina ha il record del numero di funivie, perché ricordiamo che al Faloria ci sono tre tronchi della Tofana, che portano fino a 3200 metri di quota, e la funivia e la Gazzui. Quindi l'offerta estiva di Cortina è molto forte, anche la rete di ferrate e di sentieri è veramente elevata, anche di pregio secondo me. Per quanto riguarda i numeri, allora, più o meno quante migliaia di persone transitano nel periodo invernale? Beh, diciamo passaggi invernali possono essere dai 6 milioni agli 8 milioni, negli anni buoni abbiamo fatto anche 8 milioni, adesso non riusciamo più a raggiungere, mentre ovviamente d'estate appunto sono circa il 10, tra il 10 e il 20%, perché poi l'estate è soggetta in maniera molto importante, le differenze vengono date dal meteo, perché un'estate buona va liscia, un'estate problematica blocca molto, perché se pensate, anche se nevica, uno scia ugualmente in qualche maniera, l'estate se piove non parti. In nutre fiducia per l'assegnazione delle Olimpiadi, che peraltro cadrebbero proprio in concomitanza con un decennale dell'avvio del Faloria. Sì, diciamo che le Olimpiadi ormai ce la stiamo giocando a due, inaspettatamente. L'idea di combinarsi con Milano, che sembrava un'idea un pochettino difficile, sembra invece che abbia dei pregi inaspettati. Naturalmente anche in questo caso il Faloria, perché va detto, nella prima ipotesi doveva ospitare le gare di snowboard, nella prima stesura, diciamo che man mano che è andata avanti la candidatura, al Faloria non sono più state assegnate queste gare, nonostante noi siamo a dieci anni che facciamo gare di Coppa Europa e di Coppa del Mondo di snowboard in notturna, una gara che viene fatta in genere verso il 20 dicembre, molto seguita in diretta, tv, aerosport, eccetera. Diciamo che eravamo in pole position quando c'è stata la prima idea di candidatura, adesso anche lo snowboard si è andato, quindi oltre ad essere andato via il Mondiale 2021, nemmeno con una pista di allenamento, anche l'Olimpiadi per il Falore si sta un po' così allontanando. E più andiamo avanti, vediamo che anche nelle gare di sci alpino, dove Tofano doveva essere in pole position, sembra che gli venga tolta la parte maschile e si farà ugualmente quella femminile come accade verso il 20 gennaio ogni anno. Ci rimarrebbe finalmente, dico io, la pista di Bob, la pista Eugenio Monti che è chiusa da qualche anno, nonostante il nostro così interessamento quando ci furono le Olimpiadi di Torino per far diventare la pista di Cortina, quella olimpica di Bob per l'Olimpiadi di Torino 2006, anche quella volta è andata male, e quindi man mano che passa il tempo ci tolgono delle opportunità, stamperemo le medaglie. Se è un'ultima battuta, questi 80 anni avete fatto una cerimonia il 5 di febbraio, avrete altri appuntamenti durante l'anno oppure vi fermate solamente a questo momento? No, noi approfittiamo di quel giorno per celebrare gli 80 anni della funiglia Faloria, come dicevo all'inizio, inaugurare, presentare meglio la pista Scoiattolo, che comunque è una pista a cui teniamo particolarmente, perché è una pista che porta poi il nome del logo di Cortina, nato tra l'altro nel 1939, a caso strano proprio con l'avvento degli Scoiattoli di Cortina che a luglio si formarono per la prima volta con questo design. E poi noi vorremmo celebrare soprattutto l'inaugurazione della funivia della Staunie, quello ci interesserebbe di più anche in fretta perché secondo me è un impianto che a Cortina, chiuso da tre anni, comincia a mancare.